Terza edizione della Super Val Canale, Paolo Mugnai, l'organizzatore, com'è andata? Allora, la manifestazione è andata bene, quest'anno non abbiamo avuto la quantità ma sicuramente abbiamo avuto la qualità. Basta vedere le macchine che ci sono in esposizione dietro alle mie spalle, quindi tutto sommato è andata bene e probabilmente ritengo che abbia un po' pesato sia il fatto un po' Covid, un po' penso anche crisi economica e queste cose qui. Tenendo conto anche noi dal 29 d'agosto tutte le domeniche abbiamo avuto una manifestazione automobilistica di questo genere quindi è normale che uno dice ok o vado a una o vado a quell'altra. Da dove arrivano i partecipanti? I partecipanti arrivano la maggior parte dalla Lombardia, poi abbiamo avuto anche il piacere di avere un amico che viene da San Marino e poi ritengo più o meno tutti dalla Lombardia del nord, però sicuramente anche fuori dalla provincia di Bergamo e questo senza dubbio. Aspettiamo la quarta edizione. Ringraziando anticipatamente l'amministrazione comunale, se il futuro sindaco ci darà ancora la fiducia sicuramente ci sarà anche la quarta, la quinta, la sesta, la settima. Siete venuti a questa manifestazione a Dardesio con una macchina che ha fatto la storia dell'automobilismo, in modo particolare la storia del rally. Vogliamo dire di che macchina si tratta, di quale modello? Questa è una lanciarelli, è nata come lanciarelli come nome, però non è mai stata chiamata poche volte lanciarelli, ma veniva chiamata 037, lancia 037. Perché? Perché il numero del progetto è il numero 37, l'S4 è il numero 38, le Delta e così via, aveva un numero di progetto. Questa è sempre stata chiamata così, 037, per via del numero del progetto. È una macchina che, come le altre, sono state costruite tutte nell'82-83, ne hanno costruite 222, che poi alcune sono andate distrutte ai tempi nelle gare, alcune sono state rimesse ancora in strada. Ce ne sono ancora abbastanza, sia stradali che versione corsa come questa. Questa macchina è nata a corsa, dal reparto corsa, non è mai stata stradale, ma è sempre stata una macchina da gara. Insomma, ha fatto la sua storia con i colori Martini, con la colorazione Totip, la colorazione Grifone. Ormai è più di 20 anni che ce l'ho, era un po' che la cercavo, ma avevo già altre macchine, ero già sin da ragazzo sempre appassionato di rally. E finché l'ho trovata, ho abbandonato le altre e ho seguito questa, 037. Dagli adesivi che ha, un po' di rally ne ha fatti? Sì, sì, abbastanza. Ce ne sono un bel po', come si vede, alcuni mancano perché dovevo riempire tutto l'unotto. Ma siamo stati in Croazia, in Spagna, in Francia, ne abbiamo fatti, in Italia tanti. La passione, la passione che ti porta, certo, non è una passione che costa poco, perché, insomma, tra gomme, benzine, trasferte, è una bella spesuccia, però quando c'è la passione si fa. Adesso partecipa alle manifestazioni come questa? Sì, anche, facciamo anche cose più importanti, però anche queste qua, solo per divertirti, è valida anche, anche perché questa, la prima volta che vengo su, è molto bella. Ci sono 5-6 tornanti da freno a mano e dalle rapate, all'inizio poi è tutto guidato, veloce, bellissima. È logico che quando cominci a capire la strada è finito tutto, perché a tre giri fanno presto a passare. Vabbè, poi di cose importanti ne abbiamo fatte. Grazie. Grazie.